Era un giovane tutt'altro che alieno dai divertimenti che mi venivano offerti, però non amavo gli eccessi, questo soprattutto lo tranquillizzava, che avessi ormai ventun'anni gli faceva uno strano effetto, avrebbe desiderato che mi dedicassi di più alle attività sportive, ma pensava che aspettasse a me decidere della mia vita. Tutto sommato, visto che non mi lasciava mancare nulla, poteva aspettarsi da me che io agissi secondo coscienza e che le sue speranze si realizzassero. Farsi avanti nella vita era sempre e comunque una gran fatica. Notava in mia sorella dei sintomi identici a quelli che aveva avuto mia madre, sintomi psichici e fisici di giorno in giorno più pronunciati, tipici di un carattere sempre più simile a quello di nostra madre. L'animo di mia sorella, questo era il suo tormento, non era mai libero dall'angoscia e l'organismo delicato, il più delicato che ci si possa immaginare. I suoi stati d'animo cambiavano rapidamente, totalmente soggetta alle oscillazioni del suo sistema nervoso, mia sorella era continuamente in pericolo. Da noi era isolata, sempre di più ritraendosi in se stessa e creandogli perciò un problema che lui non era in grado di risolvere. La mia impressione è che mia sorella si sia già troppo allontanata da noi perché noi la si possa ancora raggiungere. Tutti e due abbiamo perduto nostra madre nel momento più disgraziato, ma è probabile che per mia sorella quello sia stato un momento omicidiale. All'inizio, disse mio padre, l'aveva sistemata in un collegio vicino al lago di Costanza, ma era stata una decisione assolutamente inopportuna. Proprio il regime, imposto da quelle suore severe e intransigenti, l'aveva piombata in quella sua spaventosa malinconia, in quel suo stato di disperazione che da allora in poi era diventato permanente. Da un anno è a casa, vittima di un'apatia da cui noi tutti ci sentiamo oppressi. Da parte mia, con le mie lettere da Leoben, cerco continuamente di avvicinarmi a lei, ma tutto è inutile. Non si poteva escludere che la malattia psichica si estendesse sempre più anche al suo organismo. La figlia rappresentava per lui una fonte di angoscia continua.